Signori miei, vedete che dovete fare. In India hanno violentato una bambina di 9 anni. Una bambina di 9 anni hanno fatto abuso da una ragazzina di 9 anni. Questi, io non posso chiamarne neanche bestie perché le bestie hanno i loro tempi per fare sesso. Questi non sono degli umani. Allora io dico a questi signori che comandano, cioè ci state a rompere le palle, che le marò, che dovete fucilare, non fucilare, di qua, di là, quando voi la fate queste ceviche pazzesche. Ma non vi vergognate. Domanda. Questa è la seconda, quello che abbiamo saputo poco tempo fa, ti ricordo anche un'altra ragazza. E che lì succede spesso. Ecco, ma non è giusto. Io se ricordo bene, una volta ho comandato una certa signora che si chiamava Indira Gandhi, o mi sbaglio, questa donna, per arrivare al potere, diceva che lei combatteva per le donne che dovevano acquistare, non lo so, dovevano guadagnare, come si dice, avere un certo rispetto dagli uomini, da queste indiane, proprio se siete indiane, del nome dei fatti, ma gli indiani erano cento volte migliori di voi. Quindi, pertanto, non so che fino a me, sembra che l'hanno accisa, a chi sia o me sbaglio? A chi? Scusate, voi che siete più, è stata uccisa questa Indira Gandhi? Indira Gandhi, non era la figlia di Gandhi quella che comandava? Sì, sì, sì. Domanda, io credo, non lo so. Questa qui, poi non so che fino a fa, se è morta, se è stata uccisa, non lo so. Comunque, voglio dire che questo paese non può fare queste seviglie. Voi immaginate un genitore che è una bambina di nove anni e gli seviglie una figlia a nove anni. Amico caro, a nove anni sei un fiore. Comunque, e poi che le maroffe, io non lo so, anche i nostri politici, ma chi siete a parlare? Ma chi siete a parlare? Io da là parlate, facciamo, dice, dichiaremo la guerra a saccasse d'inghi. Per i due maroffe facciamo la guerra. Oppure l'ONU, com'è? Quando dobbiamo essere uniti, siamo uniti. Quello c'è stato un errore, errore, quelle hanno sparato, non sapevano se erano banditi oppure no. E del resto ci può essere un errore. Quindi, per tanto, tutti possono sbagliare. Nel caso di questa bambina violentata, a quei signori, che gli fate? C'è la pena di morte, immagino, oppure no. La pena di morte non esiste perché una sola persona può decidere della morte di qualcuno. Comunque ci è stata a capponarsi la pelle. Io al luogo non ci sono andato, sai, il 4 febbraio dovevo andare a parlare con...